Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Impruneta e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud. Sempre in direzione Bologna segnaliamo che l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla A12 per traffico intenso ci sono code alla barriera di Rosignano in direzione Sud, code a tratti in direzione Livorno tra il Bibio per l'Aurelia e la barriera di Rosignano e rallentamenti in entrambe le direzioni tra Livorno e Carrara. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze Impruneta. Buoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!